è una partita simile a quella di mercoledì secondo me oggi addirittura abbiamo avuto anche delle occasioni più nitide secondo me noi le abbiamo sfruttate poi un episodio l'unica occasione da loro creata nell'intera partita forse hanno fatto un'altra parata a Pisoni hanno fatto gol su una palla inattiva e siamo ancora qui a parlare delle stesse cose di mercoledì non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché hanno corso tantissimo si sono impegnati hanno fatto la partita che che volevo e siamo delusi sono anche loro delusi quindi è difficile è difficile commentarle secondo me perché anche oggi non meritavamo io sono sempre molto onesto nel commentare le partite o perlomeno mi reputo onesto e in queste ultime due assolutamente non meritavamo queste sconfitte ma è una domanda molto difficile perché non sono non c'è una risposta l'unica cosa che mi sento di dire l'avevo già detto in settimana dopo la partita col villa era quella di di avere comunque fiducia perché al momento è molto molto negativo chiaro veniamo da una serie di sconfitte diverse diciamo soprattutto le ultime due e quindi penso che se ripetiamo prestazioni come quelle di oggi io penso che i punti li portiamo a casa anzi sono ne sono quasi convinto mi dispiace perché avevo detto questo mercoledì dopo la partita col villa che se avessimo ripetuto una partita così avremmo provato a casa punti la realtà delle cose che non è stato così nonostante la prestazione quindi l'unica cosa che che proverò a dire è questo di continuare a crederci e di di avere fiducia di di lavorare e di non farsi deprimere dal dal momento perché altrimenti lo rendiamo ancora più pesante rispetto a quello che è rispetto a quello che è